Blure ma che stai a fà? Blure, no, Gaia Clari ci risponde al dissing di Blure Bumbe toccami sorella Gaia Chifo C'è che me fanno tutti schifo, zi Sociopatia C'è che me fanno tutti vomità C'è Alessà, Alessà C'è Alessandro Pagliari, Kfrenesi, che mi osta Che mi fanno tutti schifo, Ale Cioè dovresti capirlo Cioè anzi guarda, colgo al volo l'host A me Gaia Clerici Mi fa vomitare A me persone del... Questa gente a me fa venire i brividi ai peli del buco del culo Grande Blure Perché una persona che non sa neanche che esista Poi mi dona 100 bit per scrivermi Ah ma pensavo che potessimo andare a bere un drink fuori Quando nella mia prima serata vado su GTARP A me fa venire voglia di fare questa Guarda Questa adesso ti faccio vedere Poverino si sente escluso di legno È un bel lungo pezzo di legno Questo è un bel pezzo di legno Tu lo incastri bene E poi sai che ci fai Con il pezzo di legno Allarghi la gamba E te lo cominci a infilare piano piano in culo E spingi In culo Spingi all'infinito Spingi come se stessi facendo un bambino praticamente Perché all'incirca stai facendo un bambino All'incirca, zi Ma trave in culo Ma fa troppo paura A me il concetto di trave in culo fa pure ride No fa ride però Perché all'incirca stai facendo un bambino All'incirca, zi C'è rica sta cosa inquietantissima Sembra Tiger King No allora io qua spiego una cosa Spieghi Trave in gola Avete visto C'è stato diciamo un misunderstanding Da parte di Blur Cioè Gaia Clerici mi ha donato dei beat Invitandomi a bere un caffè Per fare un appuntamento con lui su GTA però No no Credo in real life Perché era un format Sì su GTA si sono beccati Però è un format di Gaia Tipo la chat dice Dona questi beat E scrivi frase X Evidentemente Blur Ti è preso a mano No evidentemente Blur Non conosceva il format E quindi ha realmente pensato Questa ci sta a provare con me Che ne so Pe hype E l'ha etichettata come gold digger Eh sì E questo diciamo Erroneamente Sì Credo Credo sia questo il fulcro Sai Il fatto di creare Di creare persone Di dare la possibilità Dalle persone Di esistere sui social È come fare un bambino Alla fine della fiera Quindi a me viene da vomitare Alle volte È vero Rozzo? Vero Ti crea Se sta vicino a lui Cioè partorisce influenza Non mi arrabbio neanche perché Oggi ho pensato Fra un mese e mezzo Me ne vado dall'Italia Ah Meno male Intanto pensa Uscita qua a cantina No vabbè In realtà Poi iniziamo a parlare Dell'Italia Vabbè Comunque Io diciamo Non mi stupisco Nel senso del solito Blur Più che altro Sai Qua non mi sembra Tanto ironico Anche io se facessi 60k al mese Penserei di andarmi Ma va bene Ci stiamo già pensando Ma non facciamo 60k al mese No no Ancora no Singolarmente neanche No no Sta scherzando Sì vabbè Ovviamente si sta amplificando il tutto Ma ripeto Io non giudico più Blur Seriamente Però Se lui ha veramente Frainteso Se è veramente frainteso La cosa Noi faremmo 20k al mese No Comunque Ardirate quello Dico Secondo me Perché nessuno ne parla Non me ne frega un cazzo Dai Dei sub di Blur Ragazzi perché nude Non ci donate Donateci 13.000 sub Ragazzi Che volete che sia Poca roba Un po' di invidia sociale Davide Un po' di leisure Un po' di invidia Un po' di invidia Sono molto contento Dai Dei sub che ci abbiamo Dei nostri certo Vabbè In senso pure Gaia Non l'ha preso sul serio Come non l'ho preso sul serio Io Per il discorso dei Bartolini Però là si vedeva Che era molto ironico Qua forse Ha veramente frainteso Il format Non lo so Ha detto cose che Realmente pensano Mi fa schifo C'è poco da dire alla fine Penso che qualcuno Prenda più seriamente Blur Che discorsi so So discorsi da misantropo Questi No da Io odio tutti Non me ne frega un cazzo Non ho bisogno di nessuno Sembra un personaggio Che parla Un po' sociopatico In generale Poi non ha offerto così Tante argomentazioni serie Alle quali agganciarsi Faridatra In culo Sì sì Basta Non c'è sostanza Per quanto mi riguarda No l'unica cosa È curioso che ho visto Questa clip Anche su TikTok E un sacco di gente Che parlava con i suoi slang Ovviamente Diceva C'hai proprio ragione C'hai proprio ragione Quazzo Finalmente qualcuno Che lo dice Non ha detto niente Alla fin fine Capito Nulla di che No c'era Ripeto Quel sottotesto Ma secondo me È nato da un Fraintendimento E basta Eh ma l'ha demolita Per un fraintendimento Mi fa vomitare Una trave in culo Cioè Ok Però si è sbagliato Cioè proprio Non ha capito I suoi intenti Sì Vabbè Che me lo fa fare Di non insultare Il vecchio Che sta lì Che sta facendo discorsi Su quanto è Inutile il vaccino Quindi oggi Mi sono attaccato Con un vecchio Ti sono preso A parolacce Beh comunque Zio Boh Prendi un paio Di Xanax Prima di andare a dormire Cioè Non mi arrabbio Perché Lancio un messaggio Come Ha fatto lui E il punto è che Non li ho donati Solo a te Li ho donati A tutta Twitch Italia Quindi non è niente Di speciale Il fatto che tu Giocassi su GTA Il giorno prima Era irrelevante Perché io Ho donato A chi l'ha chat A me fa Metà dispiacere Vedere una persona Così spesso triste E insoddisfatta Attrati mi fa rabbia Perché Scusa Marco Può bloccare Il commento del Bob Smuove comunque Un grosso pubblico Faccia d'età Facilmente influenzabile Ma raga Io non lo conosco Di suo Negli ultimi mesi Mi sembra un po' In burnout Non lo so Forse c'ha problemi suoi Ragazzi Queste sono Considerazioni Che non posso fare Perché non lo conosco Poi magari fuori In realtà è tranquillissima Dal personaggio Diciamo che Ma è un meme Sta cosa Sta cosa Del vomito È un meme Che l'ho sentito Di su chiunque Ma pure su de me L'altra volta Su GTA Tipo C'è il clown mascherato Mi viene il vomito Però uno lo sa C'è nel tiarito Non è nelle frasi Dicevo proprio nel mood Eh sì sì Ho capito Mi evoca un po' Di mal di vivere Non so perché Ma non Non lo so ragazzi Cazzo lo conosci Ho psicologo Della domenica Dico quello che mi arriva Dalla sua stream Pure quando ha detto Io me ne vado dall'Italia C'era molta insoddisfazione E risentimento Nella sua voce E nei suoi occhi Quindi Anch'io ho captato Quelle vibe là Sicuramente non sta bene Dove sta Ma pure Ma proprio per il fatto Dice che se ne va Secondo me È un indizio Però alla fine Sti cazzi Cioè non mi interessa No no perché Di donare E scrivere le robe Erano scritte Dalla chat Veramente dando ragione A Gaia Ma chi ha parlato Di ragione ottonica Ne ha ragione Senti allora Io veramente Oggi non me voglio Incazzare Perché è sabato Stiamo nel chilling Già ho letto Tutti i commenti Ma chi ha detto Nulla nel merito Sta cazzeggiando Come il suo solito Fine Lo stiamo parlando Non c'è un merito Ha detto le sue cose Fra intendendo Un format Da Gaia Che può piacere Come non piacere Ma chi ha dato ragione Amore mio Quindi non hai nulla Di speciale per me Infatti non ti ho mai chiamato Su GTA Non ti ho mai cercato Non ti ho mai parlato Tutte le volte Che ci stiamo incontrati Era perché Bianca Era con te E Bianca Ci ho fatto rp Tanto E quindi Mi dispiace Dirti che Circento ora Capisci Pers Simone Aveva detto Che è quello che gli sta Meno simpatico Su Twitch Simone Grembo Si intende Non Simone Santoro Cioè Veramente Dormi un'oretta in più La notte Grazie Che carino In chat stiamo dicendo Ha ragione Blur Lei è una gold digger Ma cioè Che significa Gold digger In questo caso Cioè Che vuole collaborare Con altre persone Che prova a interagire Con altri streamer Lo fanno pure i maschi Cioè Lo fa Qualsiasi streamer Non mi sembra Non mi sembra Addirittura Mona gold digger Che cosa ha fatto Non è una gold digger Gaia Non esageriamo Non mi sembra Tra l'altro Io l'ho visto il format C'ho anche un'altra clip Dove fa la stessa cosa Con Marza Eccolo Gaia Credici Ci prova con Marza Sempre il solito format Giornalista Fammi girare come le slot Mamma mia Mi sento one bombato Così dai Divertente Fammi girare Come il Questo qua il format Sto usando la situazione Eccolo Dai un re-trigger Armene Dai dai Frate Allora Adesso Sto a pensare Si scopa Questo è proprio Lo sguardo Da Si scopa Che trinchezza È come magari Un qualsiasi altro streamer Che tenta di farsi notare Da un altro streamer Solo in questo caso È una donna Ci sta magari Una provocazione Flertosa di mezzo Uguale troia Ovviamente No gold digger Non si può fare Regà Mi fa morire Marza È super legittimo Che meme vivente Che Marza Mi fa morire Un po' di scopetese Marza Sei tutto Un grifato Ma poi stai in live Uno ti dona i bit Pubblicamente Cioè Un po' lo capisci Che è un gioco No Cioè se una Mi volesse invitare In live Potrebbe farlo per gioco Anche per provocazione Per carità Però C'è penso No c'è penso Che è una roba fatta Per content Per giocare Ma poi Tu Pocanzi Non hai detto Che la chat Le dice Cosa dire Sì 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 Quello Tu dici però Nel dubbio Un po' di cunilingues Ma certo